Mi chiamo Laura, sono colombiana e ho 35 anni. Vivo in Italia da cinque anni e da tre ho finalmente una casa tutta mia a Udine dopo aver girato diverse città e diversi appartamenti in condivisione. Una volta all'anno torno in Colombia per un mese e mezzo per passare il Natale con la mia famiglia e soprattutto con la mia bambina che l'anno prossimo compie 18 anni. Vive nella periferia di Bogotà con la nonna e la zia, deve terminare gli studi e poi vorrebbe raggiungermi in Italia. Io vorrei tanto averla vicino a me ma sono da sola e per il mio lavoro e per la mia casa sarebbe difficile. Sono cresciuta nella sua stessa periferia in una famiglia povera. Il papà è morto presto e la mamma faceva lavoretti saltuari per mantenere me e le mie sorelle e spesso non avevamo da mangiare. Io ho sempre sognato di aprire il mio salone di bellezza nella capitale ma non c'erano soldi per andarci e per pagarmi la formazione. Consigliata da una conoscente della mamma mi sono trasferita nel barrio de Santa Fe con la promessa di iniziare subito a lavorare come parrucchiera. Arrivata qui scoprò una realtà diversa fatta di tante case gestite da una sola signora dove vivevano tante ragazze obbligate a prostituirsi in strada o nelle loro stanze senza sosta giorno e notte senza poter tenere neanche una piccola parte di soldi guadagnati. Io non volevo farlo ma ero sola senza soldi né conoscenze. Volevo tornare a casa ma la signora ormai mi ha detto che non potevo e mi sono dovuta fermare. Non so con quanti uomini ho fatto sesso alcuni mi picchiavano e spesso ho preso delle droghe per non sentire il dolore e la tristezza. Dopo qualche mese ho conosciuto anche un uomo diverso era era dolce e buono con me ci siamo innamorati e io sono rimasta incinta. Lui però non voleva figli ed è sparito e la signora che gestiva la casa ha provato a farmi abortire ma io sono scappata e sono tornata dalla mia famiglia e qui è nata la mia bambina ma non avevamo i soldi per farla crescere per darle da mangiare. Un uomo conosciuto in strada mi aveva promesso un viaggio fino in Europa e diceva che si sarebbe occupato lui dei miei documenti del visto del pagamento del viaggio e che mi avrebbe trovato lavoro come parrucchiera. Io non avevo altre possibilità se non tornare in strada e prostituirmi e quindi ho accettato lasciando la mia bambina alle cure della nonna e promettendo di inviare i soldi prima possibile. Sembrava tutto vero all'inizio l'uomo era gentile si era occupato di tutto sono arrivata in Italia a Roma ed ero ospite di un'amica dell'uomo e dopo qualche giorno ho scoperto invece una realtà simile molto simile a quella del barrio. Un uomo mi veniva a prendere a casa in macchina ogni sera e mi lasciava per strada in zona termini dove mi dovevo prostituire e poi mi riportava a casa e così ogni sera della settimana anche quando pioveva o faceva freddo e io vivevo con altre ragazze che facevano la stessa vita. La signora era buona con me mi offriva medicina quando stavo male e mi lasciava un terzo del mio guadagno giornaliero che io inviavo a casa fingendo di averlo guadagnato facendo la parrucchiera. Per tre anni ho vissuto così e spesso abbiamo cambiato appartamento da un giorno all'altro perché c'erano dei controlli ma non ci davano spiegazioni. Dopo tre anni di questo incubo insieme ad una ragazza venezuelana che viveva con me siamo riuscite a scappare e siamo arrivate a Udine ospiti di una sua amica. Io volevo cambiare vita e ce l'ho messa tutta ma non sono riuscita a trovare lavoro. Ho fatto tanti colloqui ma nessuno mi sceglieva perché non avevo esperienza lavorativa. Un'azienda mi aveva promesso l'assunzione come ha detto alle pulizie ma al momento della firma del contratto mi hanno detto che non era possibile registrarlo perché non avevo una residenza e nessuno poteva darmela. Ho fatto qualche lavoretto in nero ma non guadagnavo abbastanza per pagare l'affitto della stanza e per inviare i soldi alla mia famiglia e quindi sono tornata a lavorare in strada. Non avevo altra scelta. Ora guadagno abbastanza bene. Tramite altre ragazze che lavorano poche vie lontano dalla mia ho conosciuto il mondo della prostituzione indoor. Pubblico degli annunci online con le mie foto, il mio numero di telefono e i clienti possono chiamarmi e venire a casa mia. Ci sono tante agenzie che si occupano di questo. Per 300 euro al mese il mio agente mi garantisce che il mio annuncio sia sempre visibile tra i primi e che sia scritto in un buon italiano. Io ho sempre un po' paura di chi potrebbe arrivare a casa mia. Cerco di capire dalla voce al telefono se è una persona buona o no ma non sempre riesco a indovinare. Sono forse meno al sicuro di quando lavoravo in strada. Almeno lì se gridavo qualcuno mi sentiva. Nella casa in cui vivo che pago alla gente 500 euro alla settimana sono da sola. Quando esco di casa provo vergogna solo all'idea di incontrare qualcuno dei miei clienti. Vorrei qualcosa di diverso per me ma adesso è difficile anche solo immaginarlo.